la nostra prima ora di diretta assieme come al solito per sfogliare i quotidiani nazionali e locali per dare un'occhiata al meteo al tempo e quindi al traffico e poi inizieremo ad avvicinarci sempre di più alla sfida di stasera alla Dacia Arena tra Udinese e Inter con tutti gli ultimi aggiornamenti sui bianconeri partiamo proprio dando un'occhiata come si sta risvegliando il Friuli ancora tempo pessimo qui siamo sul piancavallo con una veduta sull'intera pedemontana pordenonese e vedete nuvole e ancora pioggia che caratterizzeranno questa giornata prevista di nuovo tra l'altro neve a partire dai 700 metri andiamo ad ascoltare proprio nel dettaglio le previsioni del tempo da Eleonora Nocente ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di sabato 4 maggio cielo da nuvoloso coperto con piogge sparse più frequenti ed abbondanti di mattina e dalla sera probabili temporali con piogge localmente più intense e in giornata probabili temporane e schiarite specie verso la costa quota neve oltre 1600 metri e sulla costa soffrirà vento da sud moderato le temperature sulla costa 12 14 gradi di minima 15 17 gradi di massima in pianura 10 12 gradi di minima 15 17 gradi di massima a 1000 metri 7 gradi e a 2000 metri 0 gradi un arrivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani questo dunque è il quadrometeo ci spostiamo sulle autostrade perché è successo poco fa un incidente stradale lungo la A4 nel tratto compreso tra Palmanova e la Tisana questa la segnalazione dal sito info viaggiando l'incidente si è verificato al chilometro 483 proprio tra il Bivio A4 A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia naturalmente saremo vi forniremo ulteriori dettagli nel corso della nostra ora di diretta assieme per quanto riguarda i rimanenti tratti della A4 i consueti rilievi per quanto riguarda i lavori sia sulla A34 sulla Villesse Gorizia in direzione Gorizia con uno scambio di carreggiata e poi lo svincolo chiuso per lavori in corso a Villesse e ancora lavori all'altezza del Lisert verso Trieste con restringimenti di carreggiata e ancora lavori tra Sistiana e Duino nessun problema al momento lungo la A23 nemmeno sulla A34 rimane proprio l'incidente di cui vi abbiamo raccontato poco fa nel tratto compreso tra lo svincolo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali dove tengono banco ancora gli scontri all'interno del governo dopo il caso Siri. Partiamo con il Corriere della Sera in apertura Di Maio Salvini sfida finale su Siri vicenda chiusa a noi maggioranza in consiglio dei ministri il leader del Carroccio resiste non lascia botta e risposta tra gli alleati sul sottosegretario Di Battista se si torna al voto mi candido dai giudici stop al decreto migranti. Per quanto riguarda poi la rubrica sette giorni di Francesco Verderami Tria teme che le tensioni possano pesare sui conti così nel governo si finisce di perdere di vista l'impegno più importante stabilire cioè quale linea economica adottare per redigere la prossima difficile finanziaria. E poi l'intervista a Moavero milanesi sovranisti e popolari uniti in Europa è possibile? Si parla in vista del voto del 26 maggio. A centropagina invece un gravissimo fatto di cronaca accaduto a Napoli spari tra la folla grave una bimba al caso Napoli arriva al governo. Un ride di fuoco in pieno giorno il killer è arrivato in scooter in piazza nazionale ha aperto il fuoco tra la folla a terra oltre il vero bersaglio un pregiudicato di 32 anni anche una bambina di tre anni e la nonna. La bimba è stata colpita al torace e il proiettile le ha perforato un polmone e ieri sera è stata operata in prognosi riservate. Esplode così il caso sicurezza tra accuse e polemiche. Questa è l'immagine proprio dell'arrivo dei soccorsi nella zona dove si è verificato l'agguato. Dalla Corriere ci spostiamo su Repubblica che guarda invece alla stangata con il caso Italia un buco di 5,5 miliardi nel 2018 conti peggiorati nel 2019 e per il 2020 l'Unione chiederà una massima novra ma il governo pensa ad altro e sempre più diviso su Siri Salvini contro Conte non ha più la mia fiducia. E c'è anche la vignetta di Altanna a centropagina corona di spine la nostra radice cristiana. Mafie in quei 5 miliardi scoperti ai clan come lo 0,2% del PIL inchiesta firmata da Giuliano Foschini e poi di taglio basso abbiamo il caso Megalizzi il nostro Antonio ragazzi votate contro l'odio la sorella e la fidanzata del giovane morto ucciso nell'attentato dell'11 dicembre scorso a Strasburgo scandiscono il loro appello ai giovani in vista del voto e poi ritorno alla poesia gli angeli e le carogne nel paradiso di Benni. Un articolo firma di Nadia Terranova sul noto scrittore. Andiamo sul fatto quotidiano ora l'apertura Salvini doppio flop si incarta su Siria i giudici bocciano il decreto migranti. Due grane alla vigilia delle europee il sottosegretario non si dimette se andrà alla conta in consiglio dei ministri i magistrati di Bologna accolgono un ricorso contro la mancata iscrizione alla nagrafe dei richiedenti asilo e Moavero evoca il governo tecnico. Intervista di Battista mi ricandido se dopo il voto cade il governo ma Di Maio resta capo. A centropagina autostrade il rischio di scambio tra l'Italia e la gronda di Genova. Il ministro Toninelli Glissa stiamo cercando investitori. Dal fatto quotidiano ci spostiamo su Libero. Conte tenuto al guinzaglio questo è il titolo di apertura del giornale fa il gioco sporco di Di Maio il presidente del consiglio vuole portare la testa di Siria sul vassoio dei Cinque Stelle a costo di violare i principi fondamentali del diritto ma la Lega non molla il sottosegretario non si dimetterà. A centropagina Berlinguer e il fascista sono stati soci di inchiesta di Padellaro sul terrorismo e poi ancora gli stranieri adesso possono esultare ottengono il reddito di cittadinanza i giudici vogliono dare la residenza ai clandestini. Da Libero ci spostiamo sul giornale anche in questo caso apertura dedicata a Salvini e al decreto sicurezza. I giudici fermano Salvini annullato il decreto sicurezza una sentenza del tribunale di Bologna a residenza ai migranti. Muro contro muro su Siri la Lega non si dimette. E poi Matteo il centrodestra non è stagione archiviata parla Salvini nel libro inedito che viene presentato quest'oggi dalla giornale. Sorpresa ora Messi può votare in Italia la residenza a Recanati una storia raccontata da Roberto Perrone poi ancora casa incubo patrimoniale altri 50 miliardi allo Stato una mazzata in arrivo. Dal giornale andiamo sulla stampa di Torino. La foto a centropagina ci porta nello Yemen sotto le bombe della guerra dimenticata appena la strada sterrata ripida si interrompe tra i bossoli rottami di razzi antenne mezza battute la valle appare giù in fondo come un precipizio. E poi ancora la politica italiana l'outout di Conte sul caso Siri se resta pronto a dimettermi gelo del leader leghista sul premier un carnefice non ha più la mia fiducia. Le altre notizie richiamate con gli occhiali sulla stampa il colloquio il duello con Babis il sovranista di Praga che sceglie i migranti e poi ancora Sanremo poker l'ultima sfida con musica e massaggi per il campione d'Italia. Andiamo ora sul manifesto c'è ancora Salvini che campeggia in questa foto a centropagina sbolognato il titolo il tribunale civile di Bologna zoppa il decreto Salvini impedisce l'esercizio di un diritto costituzionale il giudice accoglie il ricorso di due richiedenti asilo e si impone al comune la loro iscrizione all'anagrafe il ministro leghista furioso attacca la magistratura e poi ancora la lega non molla Siri Conte traballa scontro totale sul sottosegretario dimissionato dal premier. Chiudiamo con la prima pagina del sole 24 ore decreto legge sblocca cantieri rischio caos sei mesi per il codice appalti per approvare il nuovo regolamento occorre riscrivere 13 provvedimenti niente norme per facilitare le autorizzazioni a rilento le nomine dei commissari ora esame al senato il nodo per il governo è allargare il decreto alle semplificazioni e poi Philip Morris 600 assunti a Bologna sigarette senza combustione raddoppiato il mercato americano ancora Trump la sfida 2 miliardi nel maxipiano per le infrastrutture una scommessa elettorale una nuova spinta all'economia da parte del presidente degli stati uniti e poi ancora medio banca il 2 per cento a messi e soci l'erogazione in dieci anni operazioni analoghe previste in altri paesi chiudiamo questa prima parte dedicata alle pagine nazionali dei quotidiani e veniamo ai giornali di casa nostra partiamo con l'apertura del messaggero veneto che torna sul venezuela un venezuela allo strema allo stremo e c'è la storia di chi vuole tornare nel friuli dei nonni matteo vivrà nella cividalese ma i suoi genitori non hanno voluto lasciare il sud america si tratta di una giovane diciottenne che stante la situazione di grave crisi nel paese sud americano ha deciso di rientrare in friuli a centro pagina invece c'è la dacia arena perché ieri c'è stato l'accordo con il pordenone che giocherà a udine la serie b ne parleremo più ampliamente nella parte sportiva con le parole anche del direttore generale franco collavino che spiegherà i termini dell'incontro di ieri con il presidente lo visa poi a proposito di sport stasera come detto c'è l'udinese che ospita l'inter in una dacia arena da tutto esaurito per la ricerca del colpo salvezza le altre notizie richiamate in prima sul messaggero la cronaca un cestino incendiato lo stringer scatta lo sgombero e poi fa una selvatica trovato a passons un raro esemplare di pipistrello gigante c'è la grana rifiuti in comune a udine con fontanini che alza la voce e la lega si allinea la questione cavarzerani niente famiglia alla cavarzerani pagheremo noi questo l'appello e l'offerta lanciata dalle associazioni oicos ieri radunate a sugliano alcuni spunti poi dalle pagine di cultura da raffaello a picasso il legio con dieci capolavori celebra i maestri presentata la rassegna che aprirà i attenti il 12 maggio a il legio in carni e poi la curiosità vanno a caccia di fantasmi nel vecchio forte di colbadin succede in comune di chiusa forte andiamo all'interno per approfondire alcuni argomenti partiamo dalla via della seta ieri c'è stato un importante confronto al cinema centrale nell'ambito del farist film festival con i rappresentanti di confindustria il governatore fedriga il sottosegretario allo sviluppo economico geraci si parla delle prospettive per la nostra regione aumentare l'export in cina di 7 miliardi la francia e avanti bisogna recuperare geraci sul memorandum con xi jinping vale per la promozione i nostri porti sono pubblici non si possono comprare da roma due nuovi collegamenti aerei ricadute positive per lo scalo di ronchi sulle bottiglie di vino un qr code con un video sui vari territori andiamo ad ascoltare proprio il sottosegretario geraci al microfono della nostra luciana edelfonso la domanda riguarda la via della seta lei è stato uno dei protagonisti della firma del protocollo quali le possibilità per il porto di trieste il porto di trieste ha già firmato un accordo con la si 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 e quindi questo è un primo passo già concreto è stato uno dei 29 accordi firmati dopo quello livello governativo l'idea è quella di trasferire o comunque attirare più traffico sul porto di trieste i cinesi continueranno ad esportare e la scelta che noi abbiamo è o vanno negli altri porti europei o qualcosa anche da noi quindi penso sia una grossa opportunità in sala anche dal mondo dell'industria salita qualche preoccupazione per la necessità di tutele che cosa pensate di fare ma non so quali tutele perché noi siamo sempre allerta su tutto quello sulle merci la qualità gli standard quindi nulla cambia con questo memorandum anzi le dico proprio perché l'abbiamo firmato staremo ancora più allerta quindi vogliamo rassicurare che non ci sarà nessun ingresso di merci che non rispettano gli standard europei cosa che del resto non potrebbe accadere proprio per legge in Friuli Venezia Giulia la fetta di mercato è ancora abbastanza piccola verso la Cina lei però ha parlato di grandissime possibilità a partire per esempio dai vini friulani i vini friulani e il turismo anche la strategia che bisogna adottare a mio avviso è quella di come diciamo noi sempre far sistema e quindi aggregarsi anche alle altre regioni fare un pacchetto a nord est quindi il friuli ha le sue caratteristiche il veneto altre anche il trentino alto adice in modo da creare una massa critica per far sì che un turista cinese possa venire intanto in questa parte d'italia e passare un numero di giorni superiore a quello che la media magari una settimana divisa nelle tre regioni questo secondo me sarebbe un ottimo approccio e anche questo approccio di sistema anche a livello di nord est potrebbe essere usato anche per l'esportazione dei prodotti perché il cinese medio non distingue bene il friuli dal veneto e tanto meno la ulteriore diversità che abbiamo all'interno del friuli stesso quindi bisogna aggregare e fare una promozione di un prodotto italia nord est queste le parole dunque del sottosegretario geraci ma ieri c'è stato anche scontro durante il dibattito con l'inviato di sky tg 24 d'emilia che dice meglio il modello cinese dei populisti fedriga risponde orgoglioso di essere eletto l'efficienza non può ledere i diritti dittatura democrazia e libertà sul palco si scatena la polemica per quanto riguarda poi anche i dati attuali e futuri sull'export dal friuli solo 375 milioni a pechino gli stati uniti restano il mercato leader la nostra regione importa ogni anno beni dalla repubblica popolare per 575 milioni di euro il saldo è ampliamente negativo e queste proprio sono le cifre con le percentuali dell'export della nostra regione cambiamo argomento andiamo avanti con le pagine interne del messaggero veneto per approfondire altre notizie abbiamo visto in apertura la storia di questo giovane che dal venezuela ha deciso di rimanere nel civilese rifarsi una vita i miei genitori hanno un lavoro e non vogliono lasciare il paese in cui sono nati in venezuela si patisce la fame sto qui nella terra di mio nonno ho avuto la fortuna di partecipare al progetto che mi ha portato al convinto di acono e matteo claudio molina diciottenne ha deciso dunque di vivere in friuli e lasciare il venezuela continua però al lavoro dell'ente friuli nel mondo tra medicine e protesi a pagamento per dare una mano ai corregionali che stanno ancora lottando nel paese sudamericano continuiamo con la politica regionale si parla del turismo ieri sono stati resi noti i dati per quanto riguarda la stagione invernale il centro sinistra con bolzonello dice bini si prende meriti i nostri risultati in montagna grazie al lavoro del centro sinistra e marsiglio contesta gli investimenti coprono a malapena le manutenzioni e poi ancora i conti della sanità bilanci 2017 in rosso niente premia i manager sanitari di udine e trieste in friuli il buco di 6 milioni nel capoluogo regionale supera i 12 cro burlo ed e gas al top invece per i risultati raggiunti l'economia con l'electrolux sia al max incentivo di 100 mila euro all'electrolux se ne vanno in 53 lavoratori hanno accettato la proposta 70 mila netti il 24 maggio avrà lo stop anticipato della solidarietà 10 le stanze di uscita volontarie non sono state accolte dalla multinazionale e poi ancora con le bcc del portenonese utile al top sbarco in veneto chiuso il 2018 con un bilancio in attivo per oltre 7 milioni di euro indici in crescita acquisite 6 filiali veneziane a breve ne verrà aperta un'altra a porto gruaro veniamo a udine città ora questi i temi in apertura nuovi lampioni per scoraggiare i blitz dei ladri il piano del comune 40 punti luce nelle vie giussani paschini leipacco spesa da 260 mila euro anche per due cabine elettriche per quanto riguarda i velo ok ancora uno è stato abbattuto in pochi giorni attivandalici in serie l'ultimo in baldasseria media gli altri in baldasseria bassa in via butrio e via bariglaria le polemiche invece sulle immondizie in città per quanto riguarda il sistema di raccolta dei rifiuti il sindaco alza la voce la lega rientra si va avanti con il porta a porta al capogruppo del carroccio in consiglio mazza isola il ribelle pittioni aveva proposto il referendum sulla raccolta barillari di forza italia dice qualche aggiustamento per facilitare la vita ai cittadini è necessario facciamo le pagine del messaggero veneto andiamo sul gazzettino l'apertura dell'edizione del nord est ancora la politica con il caso siri rabbia lega ora basta cresce nel carroccio la voglia di rompere con 5 stelle base dirigenti la partita è finita nel sottosegretario non si dimetterà e salvini si prepara ad aprire le crisi dopo le europee c'è un'intervista al governatore del veneto zaia che dice brutto clima così non si può andare avanti e poi a centropagina auto blu in un anno il 10 per cento in più record a torino e roma a venezia invece per chi possiede la card vc pubblici e lo sconto sulla pp con la venezia unica andiamo ad aprire il dorso friulano del gazzettino e troviamo invece il tema profughi in apertura ieri c'è stata la conferenza stampa di oicos dopo il caso cavarzerani trasferimenti per l'accoglienza diffusa i nostri ospiti potranno dire no alla caserma impugnata la giudicazione della gara per i centri da 500 posti 12 famiglie con minori e donne sole nel novelo degli oltre 300 migranti destinati al trasferimento a centropagina ritroviamo la nottola quella ritrovata proprio a passons dopo un secolo il momento storico assolutamente straordinario non so se potrò mai tenere tenerne un'altra in mano questa l'emozione dello zoologo del museo friulano di storia naturale luca lapini che appunto ha recuperato l'animale pentecoste assalto austriaco alignano tanti giovani in arrivo negli ultimi anni si temono gli effetti di alcol e vandalismi e poi ancora sicurezza idraulica 9 milioni stanziati dalla giunta regionale per quanto riguarda invece la solidarietà 500 volontari nei market despar con un'iniziativa che coinvolge anche la croce rossa e poi lo sport l'udinese ecco un'altra sfida da non fallire questa sera alla dacia arena arriva l'inter andiamo all'interno proprio per approfondire alcuni di questi argomenti partiamo dal caso cavarzerani chi vuole potrà dire di no alla caserma a dirlo le onlus daremo la possibilità a famiglie soggetti fragili di scegliere di non andarci troveremo le risorse oico sbalducci ecs hanno annunciato di aver impugnato la giudicazione della gara per i centri da meno di 50 posti e noi ieri invece siamo andati ad ascoltare la voce dei nuovi gestori della caserma cavarzerani la cooperativa matrix che si trova proprio a gestire i primi trasferimenti che sono iniziati ieri andiamo ad ascoltarli nuovi arrivi diciamo che gli ultimi ci sono capitati un attimino un numero abbastanza grande di profughi da ospitare però diciamo che eravamo sotto numero rispetto a quelli che sono i numeri che normalmente ospita la cavarzerani eravamo intorno alle 150 unità con quelli che ospiteremo arriveremo a poco più di 300 350 quindi è il numero per cui per cui la caserma è in grado ed anche la nostra cooperativa è in grado di gestire in modo ottimale questa situazione non siete quindi preoccupati dalla situazione da questi nuovi arrivi no assolutamente no siamo abituati come consorzio a gestire questi questi numeri abbiamo gestito l'emergenza nel 2016 17 che era numericamente molto più più forte di questa quindi no non siamo preoccupati anche perché abbiamo strumenti e persone in grado di poter fronteggiare l'emergenza la cooperativa ha pensato di fare un affiancamento anche a questi nuovi arrivi che cos'è che dal punto di vista umano vi preoccupa di più beh da un punto di vista umano allora quello che siamo abbiamo immediatamente insomma pensato di fare e soprattutto contenere questa emergenza quindi farci trascinare dall'emergenza sarebbe stare anche noi in emergenza è una prima cosa che stiamo invece attuando è quella di una formazione e supporto anche all'equip che lavora qui nel centro in modo tale da sopportare e supportare al meglio tutti questi nuovi arrivi è normale che il concetto di casa cambi radicalmente però ecco che noi interveniamo un po' su quel senso di accoglienza quindi nel ricostruire un po' ecco in chiave simbolica che cos'è una casa quindi cercando di far sentire momentaneamente temporaneamente a casa i ragazzi ospitati e quindi ridargli quel minimo di fiducia ecco ricostruendo quel senso di identità ovviamente siamo nell'emergenza però in questa emergenza ripeto stiamo cercando di supportare al meglio la ricostruzione di identità di sentimenti di affetti. Ieri è intervenuto anche il governatore Fedriga che va all'attacco parole fuori luogo De Carlo fa un'interrogazione e poi c'è anche il prefetto di Udine che ieri mattina ha assicurato stiamo cercando degli appartamenti per sistemare le persone fragili ma non commenta le decisioni annunciate dalle associazioni OICO, CCS e Centro Balducci in linea con il profilo istituzionale naturalmente della carica di prefetto e per quanto riguarda invece Lignano la calata degli austriaci inizia a preoccupare con un mese d'anticipo gli operatori non nascondono i loro timori per l'arrivo dei ragazzi d'oltralpe che in passato hanno creato danni ma ieri c'è stata anche la notizia positiva per Lignano e per Grado della conferma della bandiera blu se ne è parlato poi in conferenza stampa a Grado dove le due località balneari hanno lanciato delle iniziative congiunte per la stagione estiva sentiamo Francesca Santoro dalle escursioni nella natura alle gite in casone dai percorsi ciclabili ai voli in mongolfiera senza dimenticare le gastronomia sono tante le iniziative carichiranno l'offerta turistica di grado nell'estate 2019 grazie alla sinergia tra tante realtà e alla collaborazione con Lignano come novità quest'anno abbiamo creato le escursioni di bus natura che con lunedì prossimo fino a metà settembre proponiamo come idea di visitare le nostre due possibilità di natura come le foci dell'isonzo e la valcavanata e un momento di dietro le quinte di proponiamo ai nostri ospiti di capire e provare cucinare il prodotto alla gradese terza idea che comincia con il prossimo giovedì è una visita alla moto chaffon in laguna proprio per capire e insegnare ai ospiti cosa si faceva e cosa si fa in laguna grado e lignano alleate per la stagione balneare 2019 è già una conferma di quello che è stato fatto nel 2018 è un nuovo rilancio per il 2019 per ampliare l'offerta turistica che le due località possono dare i propri turisti e soprattutto per valorizzare un territorio ricco di offerte enogastronomiche e di svago l'alleanza consiste innanzitutto nel promuovere territori in maniera unitaria per ampliare appunto la visione di un territorio che ha molto da offrire durante l'estate questo si concretizza attraverso dei collegamenti sfruttando un po la londa pubblicitaria della bicicletta arricchendola con le esperienze della barca ci spostiamo nella destra tagliamento il messaggero nell'edizione di pordenone in apertura propone oggi il tema di viale marconi una pista ciclabile che assorbe le polveri sottili lavori partiranno a fine anno o all'inizio del 2020 per evitare sovrapposizioni l'assessore spiega in altre zone sperimenteremo anche quelle fluorescenti e poi i pedoni attraversamenti sicuri per i non vedenti si parte con i primi tre andiamo ora nell'isontino invece con l'apertura del messaggero nell'edizione di gorizia si parla di autoporto che pensa al futuro e punta su sdag per altri 20 anni lunedì in consiglio comunale la proroga della gestione obizi dice l'azienda in salute con questa operazione investimenti ammortizzati e nuovi mutui per crescere per quanto riguarda poi la certificazione sosta protetta e servizi per il riposo dedicati agli autotrasportatori la struttura goriziana e al passo con le disposizioni dell'unione europea grande ne dice già oggi abbiamo tutti i requisiti per quanto riguarda poi sempre ieri a gorizia c'è stata la visita del sottosegretario alla presidenza del consiglio giorgetti e si è parlato anche di ricordi ricordati i deportati del 1945 a giugno il nuovo lapidario la lega nazionale lo realizzeremo per onorare le vittime non per vendetta la pioggia non ferma la prima celebrazione orfana di clara morassi estanta andiamo a chiudere con il piccolo l'apertura del dorso di trieste porto addio a maneschi era il signore del molo settimo e stratega della logistica capo di todelta italia marittima gresisam una eredità complessa quella che lascia alla città e poi restaurati 11 dei 22 gradoni del sacrario di re di puglia per quanto riguarda invece lo sport c'è il nuoto il campione la bianchi festeggiano trieste il basket con pozzecco nemico carissimo a trieste con sassari qui c'è gente vera si parla anche di running festival dopo le polemiche si accanisce pure il maltempo per quanto riguarda la competizione polistica ci fermiamo qui break poi lo sport per parlare di udinese ma non sola tra poco